Passo avanti ad Acireale verso la riqualificazione della storica Chiazza, ieri la firma che dà il via libera al progetto. Sisma di Santo Stefano, il coordinamento dei terremotati, scrive a Roma e chiede con forza la proroga dello stato di emergenza. A Cireale il Consiglio Comunale vota all'unanimità la mozione che prevede il recupero dei locali scolastici attualmente inagibili di via Calvario a Scillichenti. Bentrovati con il nostro Tg Reporter, tra gli altri argomenti del nostro giornale in primo piano il bando istruito dal Galterre di Aci, favorire la creazione di una rete tra imprese così da rafforzare le filiere agroalimentari. A Giarre Città Viva replica alle affermazioni del sindaco Cantarella che nei giorni scorsi aveva denunciato un disastroso quadro contabile dell'ente. E parleremo anche di via dei tesori, ultimo appuntamento con appunto le vie dei tesori. Palermo e Catania protagoniste tra itinerari storici, religiosi e culturali. Questo e altro all'interno del nostro giornale in primo piano riflettori sulla storica chiazza di Piazza Marconi ad Acireale fa registrare un passo avanti il percorso che prevede un corposo intervento di riqualificazione dell'area. Va avanti la progettazione per Piazza Marconi, la storica Chiazza di Acireale che presto sarà interessata dai lavori di riqualificazione. Attraverso il Galterre di Aci per un importo di 500 mila euro saranno ristrutturati nell'occasione anche due locali privati. Ieri l'atto notarile firmato dal Comune per avviare una partnership che prevede l'utilizzo delle due strutture anche a fini pubblici per una durata di cinque anni. Ad annunciarlo il sindaco di Acireale Stefano Ali. Noi abbiamo previsto questo intervento da circa 500 mila euro per la sistemazione di Piazza Marconi e delle zone limitrofe in cui il cui intervento prevede anche la sistemazione di due locali privati che per cinque anni dovranno essere utilizzati anche per attività di divulgazione quindi come spazi pubblici. Ieri abbiamo firmato col notaio la convenzione per realizzare questo partenariato che è un passo necessario, propedeutico all'ottenimento del finanziamento che già c'è stato assegnato però dobbiamo arrivare al progetto cantierabile e quindi questo era un primo passo e quindi entro metà di questo mese dovremo consegnare al Gal il progetto esecutivo, il progetto cantierabile e quindi avviare anche quest'opera importante per il centro storico della nostra città. Restiamo in ottica Gal Terre di Acireale che istruisce un bando filiere produttive agroalimentari tipiche atto a favorire la creazione di una rete tra imprese. Il Gal Terre di Acireale prosegue l'istruzione del bando sulle filiere produttive agroalimentari tipiche in favore dei comuni delle Aci, volto a favorire la creazione di reti di imprese e la cooperazione tra piccoli operatori che consenta di organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti tipici. Il settore produttivo locale appare ancora inespresso e lontano dalla propensione a collaborare in rete, per questo la cooperazione in un contesto di piccolissime aziende sottocapitalizzate diventerebbe lo strumento per poter realizzare da una parte economie di scala, abbassando costi di produzione ed innalzando i margini reddituali e la competitività, dall'altra per offrire servizi che da soli i piccoli imprenditori non sarebbero in grado di assicurare. Al contempo il progetto intende incentivare la creazione di filiere e il collegamento diretto delle imprese agricole con la trasformazione e con i mercati, con un particolare coinvolgimento di donne e giovani. La proposta passerà prossimamente al vaglio del CDA del GAL per l'approvazione, quindi verrà inviato al Dipartimento regionale dell'agricoltura per le verifiche e le approvazioni di prassi. Si tratta di opportunità, ha spiegato la direttrice del GAL, Anna Privitera, per le quali la strategia di sviluppo del GAL mira a potenziare e qualificare le attività di cooperazione nella filiera produttiva, ad esempio del cavolo Rapa, tipico di Acireale, noto come trunzo di Aci e del limone dell'Etna, per il quale il territorio risulta avvocato ed ha recentemente ottenuto l'IGP. L'indotto in questione ne guadagnerebbe, per citare un aspetto in condivisione di laboratori artigianali, in cui far conoscere tutti i derivati del limone e le sue caratteristiche organolettiche, ma anche in termini di trasformazione e commercializzazione. Carabinieri in azione nel Catanese, un servizio a largo raggio per il contrasto della criminalità in genere nei quartieri catanesi di Librino e San Giovanni Galermo, in particolare due arresti per droga, otto persone denunciate per allacci abusivi, questo il bilancio dell'operazione. Circa 7 tonnellate di pescato sequestrate, 2,5 kg delle quali distrutte perché giudicate non idonee al consumo. Sono il bilancio di una operazione condotta dalla Guardia Costiera, attività coordinata dal Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Catania, che ha visto impegnata la Guardia Costiera della Sicilia orientale su un territorio vasto che si estende da Santo Stefano di Camastra, nel Messinese, a Scoglitti, nel Ragusano. Nel Catanese la Guardia Costiera di Riposto e di Acirale ha posto sotto sequestro oltre 4 kg di prodotti ittici di varia tipologia allo stato congelato che per la maggior parte risultava in evidente stato di cattiva conservazione e la cui data di consumazione era ampiamente scaduta. Adesso ci fermiamo, pausa pubblicitaria, a tra poco. Come eravamo? Rassegna di eventi del passato. Nel mese di novembre, sabato 6, premio Isidoro Platania 2014. Sabato 14, sabato 13, San Martino, Vendemmia e Vino. Sabato 20, film Un bellissimo novembre, girato ad Acireale. Sabato 27, antichi mestieri di Sicilia. Come eravamo? Storia del nostro passato, a cura di Mario Musmeci e Giulio Vasta. Tutti sabato in prima serata alle 21 e 10. In replica domenica alle 17 e il martedì alle 23. su Etna Channel, canale 115 del Digitale Terrestre. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. Le otta ceramiche. Storia d'arredi da oltre 50 anni. Le otta ceramiche, da sempre solo prodotti di alta qualità, per arredare e rendere più confortevole la tua casa. Oggi abbiamo ampliato il settore dell'arredo casa, offrendo oltre a ceramiche, rubinetterie e sanitari, parchè, tendaggi, tessuti, carte da parati, infissi e porte. Ci trovi in via Sclafani, a 500 metri dal casello autostradale di Acireale, aperti dal lunedì al sabato. Le otta ceramiche. La tua casa è il nostro orgoglio. Tomarchio Ottica e Fotografia OXO, ad Acireale, in corso Italia 18A e B. Prenota il test visivo gratuitamente, quest'anno fino al 20 novembre. Da giovedì 28 ottobre, OVS Kids a Cicatena aspetta i più piccoli. Locali rinnovati e più accoglienti di prima, con tutti i nuovi arrivi. OVS Kids, moda giovanissima. Ad Aci Catena, invia Vittorio Emanuele 1416. Dal corredo 00 ai 14 anni. Farmacia Cipriani, se hai bisogno, noi ci siamo. Questa settimana, dal lunedì al venerdì, orario continuato 8 e 30, 20 e 30. Sabato e domenica, aperto con sospensione solo nella pausa pranzo. Da sabato fino a venerdì prossimo, aperti anche la notte. Farmacia Cipriani, nel centro del centro storico di Acireale, in corso Umberto 130. Per info 095 60 11 85. Pianeta mare, il pesce, come lo volete. Fresco appena pescato, pronto cuoci o direttamente cucinato. Scegliete voi. Siamo specialisti nella sfilettatura, fidatevi. Se gustate i sapori del mare, siete approdati nel pianeta giusto. Frutti di mare, pescato giornaliero, stocco e baccalà, sughi preparati, marinati e piatti espressi. Gastropescheria Pianeta mare, di Carmelo Trovato, via dei casali di AC6, AC Platani. Per info 095 16 95 16 05. Servizio a domicilio, forniture per ristoranti e comunità. Pianeta mare, un mare di piacere a tavola. Il mondo si merita di più. Meno giri a vuoto e più carica. Meno noia e più coraggio. Less normal, more mocca. Nuovo Opel Mocca. Benzina, diesel o 100% elettrico. Continuano gli incentivi statali. Nuovo Mocca e tuo da 199 euro al mese. Tan 5 95, Taeg 7 e 42. Info su opel.it. L'energia di domani è Opel Simpli Electric. Concessionaria Opel G d'auto. A riposto sulla strada statale 114,70,78. E a Catania, in via Vitaliano Brancati. Home Store. Sentirsi a casa. Home Store, Home Store. La casa qui per voi. Nuove arrivi autunno-inverno. Nel reparto home, tendaggi, lenzuola, trapunte. Novità. Grande scelta sull'abbigliamento uomo, donna, bambino. Le calzature, l'intimo, gli accessori. Home Store, Home Store. L'abbigliamento è l'intimo. Oltre a ciò che desideri per la cerimonia. Home Store ad Acireale. Ingresso da Viale Cristoforo Colombo 46 o da Via Sclafani 59. Home Store. Sentirsi a casa. Aperto anche la domenica. Ampio parcheggio. Scarica la nuova app di Radio Etna Espresso. Vai su Apple Store o su Play Store e digita Radio Etna Espresso. Potrai seguire in diretta la radio o Etna Channel TV, scegliendo attraverso canali. Portaci con te in tutto il mondo. Siamo online 24 ore su 24. Con noi la differenza si vede e si sente. Parliamo del sisma di Santo Stefano. Il coordinamento dei terremotati scrive al presidente del Consiglio Draghi e chiede con forza la proroga dello stato di emergenza. È un vero e proprio grido d'allarme quello che arriva dai terremotati dell'area Etnea colpiti dal sisma del 2018. Preoccupati per la mancata proroga dello stato di emergenza che andrà in scadenza il prossimo 31 dicembre. Ma anche per le condizioni stringenti alla quale è sottoposta la proroga del superbonus. Un appello lanciato più volte anche dal commissario per la ricostruzione Salvatore Scalia. Che dal vicepresidente dell'Ars Angela Foti. Invitando il governo nazionale a non classificare il sisma del 2018 come un terremoto di serie B. A dispetto di quello occorso nel centro Italia nel 2016. Che ha invece ricevuto una proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022. Al centro delle polemiche c'è anche la questione superbonus. La cui proroga inserita nella bossa di legge di bilancio 2022 riguarda soltanto le abitazioni unifamiliari e le case con accesso autonomo dall'esterno. La stessa proroga è stata infatti limitata alle prime case e alla ricorrenza di rigorosi limiti reddituali. Ise massimo 25.000 euro. Annullando di fatto due decreti legislativi. Il decreto legge 104 del 2020 e la legge 178 del 2020. Che hanno lo scopo di disciplinare l'applicabilità del superbonus nelle aree colpite da eventi sismici. Con una lettera indirizzata al governo nazionale, al presidente della regione Nello Musumeci e dai deputati regionali siciliani. Il coordinamento dei comitati terremotati ha espresso la propria preoccupazione in merito all'argomento. E oggi arriva lo sfogo del portavoce Giuseppe Zappalà. Ancora una volta veniamo bistrattati dal governo nazionale. Infatti la bozza di legge di bilancio per il 2022 che concede ai terremotati del centro Italia la proroga dell'emergenza fa sì che non venga estesa al nostro terremoto di Santo Stefano. Cosa peraltro che si avviene già da un po' di tempo anche per altri provvedimenti. Noi come coordinamento dei comitati abbiamo inviato una lettera dove si evince la preoccupazione dei terremotati di Santo Stefano per quest'ulteriore esclusione e per questo trattamento da terremotati di serie B. L'abbiamo inviata ai vari organi istituzionali comprendendo i parlamentari nazionali e regionali della provincia di Catania. L'interlocutore privilegiato di questa lettera è il presidente della regione Nello Musumeci da cui dovrebbe partire la richiesta per ottenere questa proroga. Infatti invitiamo il presidente affinché lo faccia al più presto possibile perché delle conseguenze di questa emergenza hanno necessità i terremotati di Santo Stefano. Ricordo che l'emergenza permetterebbe la proroga del contributo di autonomo sistemazione ma anche la possibilità di ripristinare strade e muri crollati con il terremoto di Santo Stefano. E a proposito di ripristino o di recupero, a vacireale il Consiglio Comunale ha votato ieri sera all'unanimità la mozione che prevede il recupero dei locali ad oggi inagibili della scuola di via Calvario a Scillichenti. Consiglio Comunale ieri sera da Cireale dopo il rinvi per l'allerta meteo della scorsa settimana. Il civico consesso ha ripreso gli argomenti in sospeso a cominciare dalla mozione del consigliere Martino Florio denominata una piazza per Scillichenti nella quale il consigliere comunale focalizzando l'attenzione sulla scuola elementare di via Calvario chiusa da oltre due anni per inagibilità ipotizzava l'abbattimento della stessa e la creazione di un ampio parcheggio. Alla luce poi di un confronto avuto con la comunità locale alla quale ha preso parte anche l'altro consigliere del posto Giuseppe Ferlito e gli assessori Raciti, Grasso e Di Prima si è convenuto di modificare la mozione prevedendo invece la riqualificazione della suddetta struttura scolastica e così in aula la mozione con gli appositi emendamenti è passata con l'unanimità dei voti dei presenti, 13 su 13. Sull'argomento registriamo oggi il commento dei consiglieri Florio e Ferlito La volontà della mozione, afferma Martino Florio, è quella di restituire ai cittadini i beni comuni non utilizzati. Nell'emendamento da me presentato, aggiunge il consigliere Ferlito, abbiamo impegnato l'amministrazione a mettere in atto azioni mirate, atte ad evitare il depauperamento della struttura e la sua riqualificazione anche mediante sinergie con organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti ecclesiastici. Mi auguro, aggiunge Ferlito, anche per non perdere il finanziamento già concesso pari a 50.000 euro che l'amministrazione dia seguito alla mozione in modo tale che i locali di Via Calvario siano resi agibili e messi a disposizione della comunità. Il consiglio ha quindi affrontato la delibera, avente ad oggetto la parziale modifica del regolamento delle tesi di laurea, che prevede l'attribuzione di premi per le tesi che parlano del territorio comunale. In proposito, la modifica introdotta estende la partecipazione anche ai non residenti nel comune. A Cireale piange la scomparsa del Cavaliere Nino Nicotra, 86 anni, fondatore dell'Unione Artigiani Acesi. Il sindaco Stefano Alì, la giunta e il presidente del Consiglio Fabio Fontanesca e i consiglieri comunali tutti hanno espresso nell'occasione sentimenti di cordoglio ai familiari del Cavaliere Nicotra, protagonista, si legge in una nota del Comune, di un'incessante azione a sostegno degli artigiani acesi. I funerali si terranno questo pomeriggio alle 15.30 nella Cattedrale di Acireale. Sentite condoglianze ai familiari da parte di tutti noi. Ci spostiamo a Giarre, Città Viva replica alle affermazioni del sindaco Cantarella che, parlando con la stampa, qualche giorno fa aveva denunciato un quadro contabile dell'ente disastroso. La segreteria politica di Città Viva ha inviato stamane una nota stampa in riferimento alle dichiarazioni rilasciate alla stampa nei giorni scorsi dal sindaco di Giarre, Leo Cantarella, che ha detto, a quasi un mese dal suo insediamento, di non essere stato ancora informato sulla situazione contabile dell'ente, di aver atteso per settimane che il segretario generale e il collegio dei revisori gli facessero pervenire il quadro contabile che sta ancora aspettando. Inoltre Cantarella trova incredibile l'aver trovato il fondo di riserva a zero. Il primo cittadino lamenta poi di essersi ritrovato durante l'emergenza meteo una protezione civile comunale disarticolata. Città Viva puntualizza che relativamente al responsabile di protezione civile il sindaco ne fa riferimento come se non conoscesse la reale portata operativa di tale figura. La precedente amministrazione, nonostante le difficoltà legate all'instabilità dell'ente e alla sua organizzazione connotata da sempre minori dipendenti, ha istituito il gruppo comunale di protezione civile. Seppure il responsabile del servizio sia andato in pensione lo scorso settembre, ad oggi tale figura dovrebbe essere rivestita dal dirigente. Il servizio di protezione civile, scrivono nella nota, ha recentemente gestito con efficacia l'emergenza covid, cenere vulcanica e oggi dovrebbe occuparsi di portare a termine tali attività. Città Viva passa poi a parlare delle condizioni di cassa del comune, affermando che seppur vere le difficoltà gestionali dovute anche alle condizioni di dissesto, le casse non sono vuote anche perché continuamente movimentate da entrate e uscite. Negli ultimi cinque anni l'amministrazione d'Anna ha garantito ai pagamenti del personale la gestione non solo di servizi essenziali, senza ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, risparmiando così costi di interesse su prestiti, riuscendo a garantire un equilibrio di bilancio. Per questo motivo invitano il neosindaco a presidiare maggiormente gli uffici finanziari di via Federico di Svevia. Sulla condizione del fondo a disposizione del sindaco ci appare strano, scrive Città Viva nella nota, come può un candidato sindaco, oggi tale, sconoscere ciò che avviene nella propria città. Il fondo di riserva del sindaco è in quello stato perché un commissario nominato dal Tar ha azzerato interi capitoli di bilancio, tra cui il fondo di riserva, per far fronte ad un debito di oltre 1.400.000 euro, che il comune di Giarra ha dovuto pagare a privati per un esproprio incontrato a Iungo risalente agli anni 2000. Se il sindaco fosse maggiormente coadiuvato da chi dovrebbe formare l'organo di governo, oggi incompleto e privo di deleghe, si eviterebbero scivoloni. In chiusura, Città Viva scrive, I sindaci siciliani si sono recentemente recati a Roma per chiedere al governo misure di sostegno per la finanza locale e il personale. Ci saremmo aspettati la presenza anche del primo cittadino giarrese. Raccogliere voti è un conto, trovare la soluzione dei problemi della città e tradurli in fatti è un altro. Auspichiamo che l'operazione Chiarezza, citata dal sindaco Cantarella, sia basata sulla verità, quindi documentata e aderente alla realtà. Così si chiude la nota divulgata dalla segreteria politica di Città Viva. Noi stamane abbiamo provato a contattare telefonicamente senza successo il sindaco Leo Cantarella per sapere se fosse avvenuto l'incontro con il collegio dei revisori e il segretario generale per aver maggiore chiarezza sul quadro contabile, ma al momento non abbiamo avuto risposte. E' in corso di installazione a Via Grande un evoluto impianto di telecamere di videosorveglianza che consentirà di esercitare un maggiore controllo del territorio. Lo ha reso noto il sindaco di Via Grande, Franco Leonardi. Complessivamente si sta procedendo alla messa in opera di 30 telecamere, diverse già attive, precisa Leonardi. nelle aree ritenute più strategiche, dal centro alla periferia. Tutto finalizzato ad innalzare il livello di sicurezza, ad assicurare un maggiore rispetto delle regole e ad elevare le misure di contrasto alle cosiddette violazioni di natura ambientale. I video confluiranno in tempo reale in un'unica postazione sorvegliata dalla Polizia Municipale. L'investimento, precisa e conclude il sindaco, è stato aggiudicato per un costo complessivo di quasi 50 mila euro, incluso il servizio di manutenzione per due anni, ed è finanziato con fondi pubblici non a carico del bilancio comunale. Adesso ci fermiamo, ancora una pausa pubblicitaria. Tra poco. Scarica la nuova app di Radio Etna Espresso. Vai su Apple Store o su Play Store e digita Radio Etna Espresso. Potrai seguire in diretta la radio o Etna Channel TV, scegliendo attraverso canali. Portaci con te in tutto il mondo. Siamo online 24 ore su 24. Con noi la differenza si vede e si sente. Gaspare Carni, un'azienda familiare, al servizio della qualità a tavola. Curiamo i bovini nel nostro allevamento, nutrendoli in modo naturale, direttamente. Garantiamo i migliori tagli per le esigenze richieste. La salsiccia in varie specialità, semplice, condita o al finocchietto. E giornalmente tanti prodotti pronto cuoci, con una grande scelta di involtini squisiti. Su richiesta falso magro, pollo ripieno o qualsiasi specialità che desiderate. Gaspare Carni, a Daci Sant'Antonio in via Roma 2830. Locali sanificati costantemente, sapori e bontà. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo, del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assordimento di farmaci e parafarmaci. Un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici. Prodotti per l'infanzia, calzature, termocosmesi, make-up, idee e regalo. Igiene, nutrizione, sport, veterinaria. Reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via nazionale Guardia 196 ad Acireale. Si effettuano tamponi rapidi antigenici e rilascio Green Pass tutti i giorni, compresa la domenica. Prime emozioni. Dal corredino neonati all'abbigliamento fino a 12 anni. Vieni a provare capi e convenienza. Prime emozioni. Grande assortimento di abiti per cerimonia anche personalizzati e su misura. Adidas, Puma, Pyrex, Paris Hilton, Dutch e tanti altri marchi importanti. Prime emozioni. Siamo a Acireale in via Salvatore Vigo 116. Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, trasportiamo, modifichiamo mobili e cucine nei nostri laboratori in tempi rapidi. Viaggi settimanali da e per il nord. Copertura assicurativa e la massima professionalità sul lavoro. Ma dove vai se la Sicilia traslochi non ce l'hai? Se avete scelto l'Etna come meta, volete godervi la neve? Passando per lingua glossa, fermatevi al Garden Bar. Lo trovate di fronte alla villa, in via Roma 216. Garden Bar. Dalla scuola pasticciera a Cese. Centinaia di prodotti buonissimi da gustare in ogni momento della giornata. Dalla colazione con le esclusive ravioli di ricotta, alla tavola calda. Dalla rinomata cioccolata calda, agli aperitivi. Pasticceria con produzione giornaliera, angolo riservato alla vendita di articoli perfumatori. Se passate per lingua grossa, vi aspettiamo al Garden Bar in via Roma 216. Fermatevi. Stasera al teatro, rassegna di opere teatrali realizzate da compagnie locali. Tutti mercoledì sera, in prima serata, ore 21 e 10. In replica il venerdì pomeriggio, ore 16 e la domenica alle 23 su Etna Channel. Stasera al teatro. Realizzato stamane ad Acireale una sorta di ponte istituzionale, scuola-amministrazione, con la visita al palazzo di città di Acireale, appunto, di una scolaresca della Galileo Galilei. Una giornata diversa per il sindaco Stefano Ali, che ha ospitato al palazzo di città una scolaresca dell'istituto comprensivo Galileo Galilei 10 Reale, accompagnata dal dirigente scolastico la professoressa Giosefin Scavo, che ha illustrato al primo cittadino, ma era presente anche l'assessore alla pubblica istruzione, il vice sindaco Palmira Fraschilla, un progetto natalizio che coinvolgerà l'amministrazione accese e in particolare il primo cittadino, al quale è stata consegnata una palla di Natale che dovrà essere colorata e che verrà poi appesa all'albero di Natale durante un'apposita cerimonia in programma il 9 dicembre. Un progetto, ci dice il dirigente scolastico, che racconta l'unione tra i tre ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria. Il progetto è portato avanti da tutti i DR della nostra istituzione scolastica, coordinati dalla professoressa Albina Di Mauro, ma a seguire da tutti gli altri insegnanti rappresentanti appunto di infanzia, primaria e secondaria. Il progetto mira ad uscire un po' dal periodo di lockdown che abbiamo vissuto per fare in modo che i ragazzi possano creare, possano ritrovarsi insieme e possano realizzare qualcosa che tangibilmente dia visibilità al loro desiderio di costruire insieme, in questo caso un albero di Natale che sia il risultato e il frutto del lavoro congiunto e non dell'acquisto di una decorazione natalizia. Un albero di Natale frutto di un lavoro di gruppo, appuntamento il 9 dicembre nella sede centrale dell'istituto per rappresentare il costruire insieme. Oggi mi hanno assegnato anche un compito complicato da fare perché io sono veramente scarso a disegnare, mi hanno assegnato da dipingere una palla e quindi questa qua sarà attaccata assieme a quelle che realizzeranno loro sull'albero di Natale e quindi sarà una sfida difficile per me da portare avanti, spero in un buon risultato. Quella sarà la palla che rappresenterà nell'albero di Natale che allestiranno all'interno della Galileo Galilei, la palla che rappresenterà tutta la comunità, per cui uniti in un abbraccio e soprattutto uniti in un abbraccio congiunto con le scuole, con i dirigenti scolastici, con gli insegnanti e con i bambini tutti che dopo un periodo di lockdown oggi hanno la possibilità non solo di ritrovarsi all'interno della scuola ma soprattutto di fare comunità e di parte della comunità acese anche attraverso piccoli gesti. A Cireale ospiterà la terza Call for Ideas, un accordo tra l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la Fondazione Città del Fanciullo, la Diocesi di A Cireale e il Credito Siciliano. I destinatari del progetto sono team di giovani con un minimo di due ad un massimo di sei unità che non superino i 29 anni di età e che abbiano un'idea originale e intendono provare a sviluppare un progetto di start-up. Per candidarsi è necessario presentare il team L'Idea entro il prossimo 12 novembre al sito che leggete in sovraimpressione. Il ConLab offre gratuitamente uno spazio fisico e percorsi di formazione e servizi di accompagnamento. Ad oggi ospita 10 team per quanto riguarda il settore turistico, l'agricoltura e l'artigianato. Ultimo appuntamento con le vie dei tesori. Domani e domenica saranno visitabili attraverso la guida di giovani esperti, luoghi di culto, di storia e di arte che raccontano una Sicilia di estrema bellezza. Ancora una volta Palermo e Catania al centro delle visite organizzate dalle vie dei tesori. Nel Catanese la scorsa settimana gli organizzatori hanno deciso di annullare l'ultima battuta del festival, in segno di solidarietà alla città e il rispetto alle vittime dell'alluvione. In questo weekend però hanno riproposto il programma quasi nella sua interezza. Ci sarà spazio per i luoghi storici come la tardo bizantina Cappella Buonaiuto, il bastione degli infetti sulla collina di Montevergine, il castello Orsino con i suoi fossati, la chiesa di Santa Chiara dove Verga ambientò una delle sue novelle più belle e la chiesa di San Nicolò con l'arena con i suoi camminamenti. Per chi ama andare per dimore nobiliari ecco invece Palazzo Asmund di Gisia, trasformato in Hotel de Charme, l'elegante Villa Manganelli, il Palazzo della Cultura, oggi sede dell'assessorato comunale, Palazzo Scuderi di Bertini con il suo giardino sospeso. Apriranno le porte anche i nuovi luoghi proposti quest'anno che hanno raccolto tanti visitatori, come l'antica farmacia dei Gaetani dove sembra di respirare l'area degli speziali e la società storica catanese dove si scopre la stanza dei re con i documenti dal 1816 al dopoguerra. Sul sito www.leviedetesori.com è possibile prenotare le visite e consultare dettagliatamente il programma Assai Nutrito che dal cuore del centro catanese si sposta anche ad Acireale con la chiesa di San Benedetto e il Santissimo Salvatore, il Museo del Carnevale, il Museo delle Uniformi e il Palazzo Raciti da dove si può osservare la città dall'alto. Per chi vorrà trascorrere un weekend fuori porta immerso nella natura si potranno raggiungere invece i basalti colonnari creati dall'antica lava del porticciolo di Acitrezza o ripercorre i terribili giorni del 1928 quando una colata di struste maschili. Apriranno le porte tutti i giardini arrampicati sull'Etna, da quello botanico del parco della Villa Paternò del Toscano a Sant'Agata di Bacchiati al parco delle meraviglie della Fondazione La Verde e la Malfa a San Giovanni la Punta, al giardino tropicale alle pendici del vulcano a Mascaruccia. A Via Grande si potrà visitare l'inedita Villa Manganelli Biscari dove fu girato un bellissimo novembre con Ginalollo Brigita e si può prendere parte alla passeggiata che segue le vie magne tra lava e storia alla scoperta del borgo medievale di Biscalori. Tutto questo e molto altro per riscoprire il profumo di una terra piena di meraviglie. Un appuntamento per questa sera alle 18.30 nei locali della Biblioteca Comunale Francesco Guglielmino di Acicatena in Via Campo Fiorito, alle spalle della Chiesa Matrice, si terrà un incontro culturale con lo scrittore Tino Lavecchia ad organizzare la manifestazione all'assessorato alla cultura del comune di Acicatena. Sport domani in campo, le squadre accesi del calcio a 5 e nel basket esordio in campionato per il San Luigi. Passata l'ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia durante lo scorso weekend, si torna in campo nel calcio a 5 con i recuperi dei match rinviati la scorsa settimana. In Serie B l'Agriplus viaggia sul campo della Siac Messina per un match che rappresenta un testa-coda e ad occupare la testa c'è proprio la formazione di Mister Bosco con 7 punti insieme al Palermo e alla Mezzia. Una squadra in salute dal punto di vista fisico e mentale, ma domani ad attendere Granata ci sarà una Siac Messina ancora a 0 punti, con un gol fatto e 13 subiti. Sulla carta il match appare scontato, ma in casa C-Reale si vuole rimanere con i piedi ben saldi per terra senza sottovalutare l'avversario. Calcio d'inizio fissato per le 16 al Palamili di Messina. Si recupera anche in Serie C2 Girone C con la Sicil Grassi che al Palavolcano ospita la polisportiva Nicosia. L'obiettivo per gli accesi è quello di invertire la tendenza di un campionato fin qui troppo discontinuo. Solamente tre punti racimolati in quattro giornate. Calcio d'inizio fissato alle 16 al Palavolcano. Impegno in trasferta con un umore completamente opposto rispetto alla Sicil Grassi per la Stella Rossa sul campo del Futsal Nicosia. Gli ospiti, dopo aver rallentato la propria corsa due settimane fa contro il San Nicolò, vogliono tornare alla vittoria e inseguire la prima posizione. Nel basket a campionato di Serie D Girone Giallo esordio per il San Luigi a Cireale che domani affronta in trasferta il Panormus Palermo alle 18.30. Primo esame stagionale per gli accesi che si presentano ai nastri di partenza del campionato con l'obiettivo di far crescere i propri giovani togliendosi anche qualche soddisfazione. Coach Carmelo Niconosi potrà contare su un organico giovane ma esperto che avrà intenzione di dire la sua in un campionato impegnativo. Andiamo a chiudere, lo facciamo con le previsioni meteo per domani. Cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 20 gradi, la minima di 18, 20 moderati, mare mosso. E' tutto per questa edizione, grazie come sempre per essere stati con noi. L'appuntamento viene rinnovato a domani, sempre a partire dalle 13.40 con una nuova edizione del nostro TG Reporter. Buon proseguimento di salata.